Sondaggi Grande Fratello 9 marzo 2024. Chi volete in finale fra Rosy, Letizia, Anita e Paolo? E veniamo quindi ai sondaggi inerenti e il Grande Fratello ovviamente ci stiamo riferendo al sondaggio che decreterà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello. Ossia quello che vede in nomination la romana di formello Anita Olivieri, la cuoca Rosy Chen, il macellaio Paolo Masella e la fotografa Letizia Petris. Ovviamente Letizia e Paolo sono anche fidanzati. Vi ricordo che la domanda è in positivo, ossia quello che riceverà meno voti sarà quello che andrà in finale. E diventerà automaticamente il secondo finalista. Ricordiamo che la prima è stata Beatrice Luzzi. Al momento il sondaggio è stato aperto ieri e nelle varie nostre piattaforme a disposizione, ossia YouTube, Instagram e X ha già raggiunto circa 4.900 voti. Come sempre vi forniremo i nostri dati aggiornati lunedì prossimo a meno di 10 ore dalla chiusura del televoto per avere dei dati più significativi e analizzare il flusso dei voti. Questi i nostri risultati. Prima Rosy Chen 44%, seconda Letizia Petris 22%, terza Anita Olivieri 18%, quarto Paolo Masella 16%, insomma dai dati che abbiamo in questo momento ci sembra che Rosy Chen sia difficilmente scalzabile dalla conquista della nuova nomination dagli altri concorrenti. Grazie a tutti.